Ehi Bellino, dove stai diretto? Torno da lavoro, voglio? Andiamo a fare un po' di valdoria, vuoi iniziare a noi? Che in realtà, sai, dovrei portare a spasso il cane E dai, su, non vorrei mica rinunciare a passare una serata con due belle signorine come noi Sapete ragazze, a me piace molto il cinema Avete visto la grande bellezza? E come no? Siamo stata la prima a Cannes Che spasso, siete andate proprio bene E di lusso Ragazze, avete visto come è stato bravo Sorrentino a mettere in scena i vizi e le dissolutezze dei nostri tempi Non pensiate sia geniale contrapporla alla bellezza che emanano i monumenti e le opere d'arte di Roma? Giusto In effetti hai ragione, è davvero geniale Io ritengo molto significativa questa frase È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore Il silenzio e il sentimento L'emozione e la paura Gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza E poi lo squallore disgraziato E l'uomo miserabile Cayera, dopo la chiacchierà mia tua madre Arrivo il sentimento Brunzo While Ch 민ci Il 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 Sometime I'm going over here Sometime can my honey come back